Salve a tutti ragazzi e bentornati su cose dell'altro cinema Oggi faccio un'inquadratura diversa, non voglio gli sfondi blu, gli sfondi verdi, gli sfondi rossi Perché questo non è né un vlog, né una recensione di un film bello, né la recensione di un film brutto Né tantomeno un sushi time, vedete sushi qui? No, vabbè che non c'è mai sushi né sushi time, però Questo è un video che faccio per dare alcune comunicazioni importantissime per alcuni Totalmente inutili per altri, questo lo so Però devo darle, devo darle Anche perché tutte le volte io mi scordo di fare, di dire queste cose in questo canale Perché le dico su quei due sul server, do per scontato che tutti adesso sappiano certe cose Invece no, perché qui mi segue magari gente che non è interessata al gaming Magari è interessata al cinema, o magari è interessata al sushi Quelle sono le persone che mi seguono qui Quindi faccio queste comunicazioni anche qui E, 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 voglio consigliarvi un paio di canali In realtà uno ve l'ho già consigliato, però tra un po' c'è nell'aria una collaborazione con questo canale Quindi ve lo riporto un attimino alla mente Ma sicuramente ve lo ricordate perché il suo è un ottimo canale Soprattutto se amate l'horror È il canale Ore di Orrore E con Ale di Ore di Orrore Probabilmente a breve termine si farà un bel video Non so ancora di che natura, ma quando entrambi avremo un po' meno impegni E potremo dedicarci a una collaborazione Che saprete sicuramente è un po' più laboriosa di un video fatto così Come lo sto facendo adesso Vi faremo vedere qualcosa di carino O almeno è quello che spero Il suo canale, quindi, Ore di Orrore Lo consigliai anche un po' di tempo fa Perché è veramente molto valido Soprattutto se volete sentir parlare di horror Che non stanno in televisione Che non stanno adesso al cinema Ma di horror che vi siete persi anni fa E, e vorrei anche consigliarvi un altro canale Che probabilmente conoscerete Perché anche questo canale A parte il fatto che è grandicello Ma poi è veramente figo E sto parlando di Horror Bakery Questo duo Fenomenale, un ragazzo e una ragazza Fanno questi video che sono Sono come le ciliegie Sono piccoli, corti Ma stracompressi Stradivertenti, stravivaci E questi ragazzi adorano tutto ciò che è horror Sia parlando di cinema che parlando di videogames Ma non è che trattino proprio solo esclusivamente horror Fanno delle belle virate Ogni tanto, ma diciamo che il filone Anche qui è lo horror Sì, Ergo, ma consigli solo canali che trattano lo horror Perché ci hai consigliato stroncando l'orrore Ore di orrore Horror Bakery Sì, mi piace tanto l'orrore Ok Prima o poi consiglierò Vabbè, ve lo consiglio adesso Ok, tenetevi pronti Carta e penna Questo è un genio Questo è un genio Vi giuro Allora Pronti? The Food Emperor L'imperatore del cibo Questo tizio è fuori di testa Come un balcone È fantastico Io adoro i suoi video Non vi nascondo che gli ho mandato anche un messaggio Per chiedergli una collaborazione Perché impazzirei a collaborare con un tizio così È fenomenale È un cuoco È un cuoco che fa delle ricette Sia in italiano che in tante altre lingue Non so quante cazzo di lingue parli questo tizio Ma è veramente divertente Volgare come poche cose E tra l'altro secondo me è anche un ottimo cuoco Molto fuori dagli schemi Si diverte a destrutturare le nostre ricette italiane E a prenderci per il culo Ah voi italiani dite che così non si fa Vaffanculo il cuoco sono io È spettacolare ragazzi Vi consiglio The Food Emperor E poi vorrei fare una comunicazione di servizio Sarò al Games Week Ci sarò in veste di sinergo di quei due sul server Ma tendenzialmente io credo che mi si possa contare Anche come sinergo di costa dell'altro cinema Visto e considerato che per mia sfortuna sono la stessa persona E quindi se voi siete da quelle parti Potremmo cogliere l'occasione per guardarci finalmente in faccia Occhio ad occhio Stringerci la mano E se non c'è troppa resta scambiare due chiacchiere Perché le fiere hanno un lato molto buono E il lato buono è che Non c'è solo il contatto da tastiera A me piace molto Avere una faccia davanti a cui rivolgermi E non un avatar Anche perché maledetti Spesso avete degli avatar con dei personaggi giapponesi Mi chiamate Matsuiko Kamoto Io che cazzo ne so chi siete Proprio non riesco a capirlo Invece dal vivo è tutto diverso È tutto più caldo ed è anche più divertente Il contro delle fiere È che perché come sono fatto io Che mi piace godermi il mondo un pezzetto alla volta Un po' come il pianista sull'oceano Poi ci tornerò su quel film Mi piace godermi il mondo un pezzetto alla volta E le fiere sono uno tsunami di mondo tutto insieme Che quindi non riesco ad assaporare È quest'acqua salata che mi entra in gola e mi soffoca Perché non riesco a tirare una boccata tra un'onda e l'altra Fondamentalmente questo che non mi piace delle fiere Ma è effettivamente l'unico modo che ho per congiungermi a voi Cari amici Per stringervi la mano Per sentire che anche voi siete vivi e non siete un bot Ok? Quindi sarò al Games Week Ci sarò di sicuro tutta la giornata di venerdì E tutta la giornata di sabato Poi tornerò nel Molise di domenica E ripartirò dopo tre giorni per Lucca Dove sarò per tutto il pomeriggio di giovedì se non sbaglio Tutto venerdì e poi ripartirò sabato a pranzo Quindi ci sarò anche il sabato mattina Sarò prevalentemente nell'area gaming Che è una zona che sta giù mi sembra Rispetto alle mura di Lucca sta giù Adesso non l'ho ben capito Però l'area gaming Sarò lì sempre con quei due sul server Ma vale lo stesso discorso Ok cose dell'altro cinema Cercherò anche di farmi un giro a Lucca E nel Games Week cercherò di non stagnare lì nel mio stand Ma sostanzialmente farsi un giro a Lucca per me Che mi piace il mondo un pezzetto alla volta È un po' una tortura Perché c'è troppa gente tutta insieme Almeno nel mio stand So che metto la testa in un angolo E per un attimo posso riposare Ok Scusatemi ragazzi Purtroppo io sono fatto così Ho grossi problemi con il casino Io non avevo neanche un anno Mia madre mi portava a una festa C'erano cinque persone che parlavano tutte insieme Io piangevo Quindi è una cosa innata Ok come i lupi Non può impedirgli di ululare Quando la luna è alta A me non può impedirmi di scoglionarmi Quando c'è troppa folla Anche se la folla è composta da persone che adoro Come siete voi Grazie ragazzi per l'attenzione Scusatemi per questo video Che non vuol dire un cazzo Ma sono solo informazioni E noi ci vediamo al prossimo video Che molto probabilmente sarà quello Con il cane Se riesco a tenerlo fermo Quel cazzo di cane Perché continua a muoversi